I concorrenti sono aziende che offrono prodotti o servizi simili alla tua. Quando ottimizzi il tuo sito web, devi sapere come si comportano i tuoi concorrenti e conoscere le loro attività. Con Ranking Coach puoi aggiungere concorrenti durante la configurazione iniziale, ma in qualsiasi momento puoi aggiungerne nuovi o rimuovere quelli esistenti. Per farlo, accedi alla dashboard di Ranking Coach, vai nella scheda generale e clicca su Concorrenti. Qui in alto, visualizzi i concorrenti già inseriti durante il processo di onboarding. Per rimuoverli, ti basterà cliccarci sopra. Nella parte inferiore della pagina, visualizzi una lista di potenziali concorrenti già selezionati da Ranking Coach in base alla tua località, al tuo settore di attività e al tuo sito web. Dovrai solo cliccare su quello che vuoi monitorare. Se non riesci a trovare un concorrente tra quelli suggeriti, aggiungilo manualmente cliccando su Aggiungi un altro. Nel campo apposito, digita l'urla del concorrente che vuoi inserire e confermalo dal pulsante Aggiungi. Infine, salva le modifiche.